Insight Club Rookie, prima puntata dal Fiumino del 2015, nuovo progetto con DJ emergenti ma che comunque già hanno un bel po' di esperienza o comunque la stanno facendo anche con vari gruppi di organizzazione di eventi qua della zona e che ci fa piacere coinvolgere ovviamente terzo ospite di stasera Filippo Baldi, ciao Filippo Ciao a tutti Allora, io inizierei parlando un po' di te, cosa fa Filippo Baldi? Diciamo ho iniziato a fare, ho iniziato due anni al Sonar che insieme al mio insegnante che mi ha messo, diciamo, mi ha immerso nel mondo dei DJ Si può dire chi è il tuo insegnante? Sì, Riccardo Iarucci Tratto che salutiamo, che è stato anche con noi l'anno scorso all'Inside Club, diciamo, dei più grandi Poi ho fatto un anno e mi ha insegnato un po' come ci si muove sul mixer E poi dall'anno scorso ho iniziato a fare produzioni con Ableton, come abbiamo visto anche prima con Peter Poi... boh Senti, ecco, cos'è che ti piace in questo momento più... o meglio, come mixi, passi dal DJ set a Ableton Cos'è che preferisci fare? Ableton non è che sia tanto... non so buono, diciamo Invece a me mi piace trasmettere l'emozione e il sentimento e proprio io a sonare questa musica al pubblico Senti, e quindi come... poi immagino che ovviamente tu essendo in contatto con Riccardo Iarucci Ho all'età di 16 anni, 17, no, anche 15 anni a fare il PR per lui E poi da lì praticamente conoscendo tutti sono entrato a far parte di questo gruppo V E infatti ho avuto l'occasione di fare il corso con Ricca Senti, un'altra domanda... e cosa ti aspetti da questo mondo? Vuoi continuare un hobby? Come la vedi? O ci... vedi qualcos'altro? Diciamo, io la vedo come una passione che vorrei magari, cioè, con gli anni vorrei, cioè, portare avanti E vedere quello che viene fuori Quindi di produzione, se stavi provando iniziando a fare qualcosa, sì, ho fatto una traccia, però non l'ho mai fatto uscire Comunque sei giovane, anzi, noi ti segui... ho una vita davanti Ho una vita davanti, artistica a questo punto anche, poi ti auguro anche bene per tutto il resto Infatti, ti ringrazio, ringraziamo anche che ci stai ascoltando Filippo Baldi, terzo ospite della prima puntata dell'Inside Club Rui Ciao Filippo Ciao a tutti Can you tell me, what's the situation? Show me everything in all its wonder I've been feeling my way through the darkness Couldn't find my way out of this prison Don't look too far under the skin Don't look too far under the skin Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.